Si è aperta ufficialmente la campagna per le elezioni legislative in India, che si articoleranno in cinque fasi dal 16 aprile al 13 maggio. Esercitate il diritto di voto e difendete la democrazia laica e pluralista nell'India. Rifiutate ogni forma di fondamentalismo ideologico e di violenza, hanno incoraggiato i vescovi cattolici del paese in un appello ai circa 714 milioni di indiani attesi alle urne. In un messaggio firmato e diffuso dalla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale, secondo quanto riferito dall'Agenzia Fides, i presuli ricordano il primato della persona, la sua inalienabile dignità e i suoi diritti, nonché il necessario impegno di ciascuno per il bene comune. Principi e valori su cui insistono tutti i responsabili cristiani del paese, che di recente hanno redatto un memorandum destinato ai leader dei diversi partiti politici, per chiedere loro di porre la sicurezza delle minoranze religiose, in particolare delle comunità cristiane, in cima alle loro piattaforme elettorali. Secondo quanto riferito dall'Eglises d'Asie, l'Agenzia delle Missioni Estere di Parigi, le violenze anticristiane in Orissa e in altri stati indiani hanno provocato tra i cristiani più di 60 morti e circa 50.000 sfollati. Nel documento i Vescovi Cattolici danno poi rilievo a una rivendicazione più volte avanzata dai cristiani, i quali chiedono la creazione di programmi finalizzati a favorire il loro sviluppo economico. Le elezioni giungono alla scadenza dei cinque anni di mandato del Congress Party, il cui principale avversario all'opposizione è il Bharatiya Janata Party, il partito di ispirazione nazionalista induista. I due grossi schieramenti hanno visto una lenta erosione dei consensi, che ora privilegiano i partiti regionali maggiormente interessati alle questioni locali.